Agoscienza Vorrei sapere che è questa agoscienza che spesso oggi sento di nominare Sto anche spesso di fare la conoscenza Ricordiamo che cosa significa? Ho già spiegato una maestra di scuola Che aveva scuola all'università Ma ho detto figlio mio Questa parola si usava così Ma tanto tempo fa Ora la coscienza si è disintegrata Agoscienza Vorrei sapere che è questa agoscienza che spesso oggi sento di nominare Sto anche spesso di fare la conoscenza Ricordiamo che cosa significa? Ho già spiegato una maestra di scuola Che aveva scuola all'università Ma ho detto figlio mio Questa parola si usava così Ma tanto tempo fa Ora la coscienza si è disintegrata Agoscienza Vorrei sapere che è questa agoscienza E' questa agoscienza che spesso oggi sento di nominare Sto anche spesso di fare la conoscenza Ricordiamo che cosa significa? Ho già spiegato una maestra di scuola Che aveva scuola all'università Ma ho detto figlio mio Questa parola si usava così Ma tanto tempo fa Ora la coscienza si è disintegrata E' la sua spiegato